Mi occupo da circa 40 anni di indagini diagnostiche e nell'intervento odierno produrrò un dato statistico su quello che è il livello di conoscenza dei condomini per quanto attiene la diagnostica e la verifica strutturale delle parti, diciamo, sulle superfici delle pareti laterali e per quanto riguarda le strutture. Il settore è ancora, come sempre, arretrato rispetto agli altri campi. Anche stamattina abbiamo sentito degli interventi dove praticamente devono fare dei personaggi, degli professionisti o degli amministratori condominiali delle autodichiarazioni per quanto riguarda lo Stato conservativo e la statica degli edifici. Sono venuto apposta per portare il mio contributo e per portare il livello di conoscenza di questa attività preliminare a richiesta di finanziamenti del sisma bonus perché confermo che da 40 anni esistono indagini diagnostiche e prove non distruttive che ci servono per verificare la idoneità statica degli edifici e quindi stimare eventuali interventi di adeguamento sismico e miglioramento sismico.